Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, funzionatura e roditura in CNC. Con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi Cento, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque. Via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. Acento, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia. Qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a finale miglia e tutto questo. Pavimenti, rivestimenti, arredobagno, stufi e accessori per la tua casa delle migliori marche. Il fondatore Andrea Filippini e lo FTAF di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Mostra fotografica capolinea del Fotoclub Il Guercino in Salazzarri di Marco Rabboni. Ancora pochi giorni per ammirare la mostra capolinea che chiuderà i battenti il prossimo 7 gennaio 2018. La mostra è stata ideata e organizzata col patrocinio del Comune di Cento dal Fotoclub Il Guercino. Le opere fotografiche sono esposte nella Salazzarri del Palazzo del Governatore, in Piazza del Guercino, dal 16 dicembre scorso. Nella mostra fotografica dal titolo Capolinea, sono esposte opere arrivate direttamente dall'evento fotografico Colorno Photo Life, che si è svolto presso la reggia di Colorno a Parma all'inizio del mese di novembre. Rappresentano i risultati di un laboratorio coordinato da Luca Monelli, presidente del circolo Fotoclub EIS di San Felice sul Panaro, Modena, che ha interessato, oltre al Fotoclub Centese, anche il circolo fotografico Il Palazzaccio di San Giovanni in Perticento, Bologna. Il tema Capolinea di grande forza metaforica, preselto per il 2017, ha portato i fotografi dei tre circoli ad approfondire e trovare ispirazioni sia nel concetto di Capolinea itinerario, oltre il Capolinea, sia nel significato letterale o figurativo del termine. Sentiamo a tal proposito la Presidente del Sodalizio Fotografico Centese, Nicoletta Vitali, che ci dà spiegazioni in merito. Perfetto. Nicoletta Vitali, presidente del Fotoclub Il Bercino di Cento, una associazione che raggruppa, diciamo così, gli appassionati di fotografia qui a Cento e non solo, però qui in Sala Zali per l'inaugurazione di un'importante iniziativa che non è solamente di Cento, ma come abbiamo visto nella presentazione coinvolge tanti altri attori dell'appassionato della fotografia qua nei dintorni. Ecco, Presidente, ci vuole un attimino spiegare bene cos'è questa iniziativa perché la vediamo un po' particolare, anche nella grafica dell'impaginazione, dell'esposizione delle foto, è un po' diversa dalle solide. Sì, allora la mostra nasce da un laboratorio. Il Dipartimento Cultura della FIAF ha lanciato un contest il cui titolo è Capolinea. Non è stato sufficiente lanciare il contest, ma nel contempo ha creato questi laboratori nati dalla fusione di diversi circoli. Il nostro, appunto, è il laboratorio di Agora di Cult, che è il numero 008 e riunisce i circoli Fotoclub Guercino, il Palazzaccio di San Giovanni in Persiceto e il Fotoclub Ice di San Felice sul Panaro. Il nostro coordinatore, Luca Monelli, ci ha seguito e ognuno di noi, ogni fotografo che ha partecipato, ha sviluppato il concetto, appunto, Capolinea, che non è necessariamente quello legato all'autobus che arriva al Capolinea e riparte, ma è stato elaborato anche a livello concettuale, a livello psicologico. Ognuno di noi ha espresso la propria idea di Capolinea e la cosa particolare che ci ha arricchiti tantissimo, appunto, è il confrontarsi con altri fotografi e non rimanere chiusi ognuno nel proprio circolo. Altro, diciamo, spunto, diciamo, di orgoglio, punto di orgoglio sono le stampe, un po' particolari, un po' diverse dalle solite. Abbiamo voluto creare dei pannelli in alluminio su cui, appunto, sono state stampate sia le foto che la descrizione del progetto di ogni fotografo. Questa mostra è già stata esposta alla Regia di Colorno, a Parma, che purtroppo adesso passa un brutto momento. E prossimamente, finita la mostra, oggi la inauguriamo, fino al 7 di gennaio sarà aperta tutti i fini di settimana e tutte le mattine. Il 13 di gennaio, invece, passerà a Mirandola, per cui è una mostra itinerante. Noi la porteremo in giro un po' in tutto il territorio e probabilmente anche oltre il nostro territorio, l'Emilia-Romagna. Bene, Presidente, siamo proprio qui, abbiamo visto le varie opere esposte, siamo qui, alle tue spalle c'è la tua foto. Ecco, spiegaci un attimino come il tema, come l'hai tu sviluppato, così capiamo meglio anche gli altri fotografi come hanno sviluppato il loro tema, perché capolinea, come lei ha detto, non è solamente il capolinea del tramo, è un capolinea anche di vita. Ma infatti, diciamo, l'elaborazione è nata dal fatto che non volevo creare il capolinea inteso nel senso più banale o normale, letterale del concetto. E quindi ho pensato alla vita di ognuno di noi che è scandita da tanti momenti, che sono tanti momenti anche di cambiamento, inizi e fine e ripercorsi. Quindi ho scattato i momenti particolari della mia vita che comunque mi hanno in qualche modo fatta crescere, fatta cambiare, sia nel bene che nel male, cioè sia in momenti positivi che in momenti negativi per farmi diventare poi la persona che sono. Infatti qui vediamo un uomo che ha in mano, tiene sul petto varie foto, come dicevi tu, della tua vita, sono foto tue che ripercorrono un po' la tua vita. Sì, ti correggo, non è un uomo perché quella sono io, anche se hai ragione, in moltissimi hanno notato questa cosa, ma io l'ho proprio voluto, l'ho voluta questa cosa perché non trasparisse il fatto che ero io, poteva essere qualsiasi altro io, qualsiasi altra persona. Questa è la mia storia ma può essere la storia di chiunque altro. E quindi ogni momento, diciamo ogni foto, segna un passaggio, un percorso che in qualche maniera è iniziato e poi è finito per dare vita a un altro percorso, quindi un altro capolinea. E per il prossimo futuro il Foto Club Il Bercino cosa farà? Beh, sicuramente avremo in maggio uno sguardo sul mondo, le serate di visione di audiovisivi, poi avremo quest'altro anno, cosa molto importante, il concorso biennale nazionale che accoglie fotografi da tutta Italia e anche lì il Foto Club Il Bercino farà una propria mostra sicuramente molto particolare. Quindi siamo lanciatissimi su questo tipo di percorso, anche perché è giusto scattare delle foto ma poi farle anche vedere.